Ascensori Tortorella Abbiamo voluto chiamare Molesando, ovvero parlando di mola e vogliamo parlare in queste trasmissioni proprio di quello che sta avvenendo nel nostro paese Ringraziamo innanzitutto lo sponsor che ci ha consentito di realizzare queste trasmissioni cioè l'ascensori Tortorella, via Battegim, Bari Abbiamo stasera il primo ospite, quindi inauguriamo con te questo ciclo l'assessore Nicky Buff, assessore all'ambiente che è l'assessorato più bello dovrebbe essere più bello dovrebbe dare qualche soddisfazione con la natura, con l'ambiente non con l'immondizia però purtroppo abbiamo a che fare anche con quello allora Nicky, che cosa abbiamo fatto in questo periodo che possiamo segnalare? Io parto subito dal dato della raccolta differenziata perché abbiamo avuto il dato definitivo anche di agosto e sia per luglio che per agosto abbiamo avuto delle percentuali tali che ci consentono di attestare le percentuali più alte da quando è iniziata la raccolta differenziata a mola quindi nonostante tutte le criticità che si vivono nel quotidiano con l'abbandono del sacchetto per strada o nelle periferie ci siamo tolti questa soddisfazione però la gente sta maturando la gente sta maturando abbiamo svolto una bella iniziativa due sabati fa il villaggio verde delle fiabe perché siamo convinti che la gente sta maturando e bisogna partire dai bambini i bambini cercano di convincere anche i genitori perché ci sono anche i bambini che dicono ai genitori ma perché mettiamo tutti insieme i rifiuti? dobbiamo fare la differenziata è vero? quindi bisogna insistere sui bambini ma è importante anche per una questione proprio generazionale la persona più grande è abituata al sistema che c'era fino a 5 anni fa ossia il rifiuto indifferenziato nei bidoni, nei cassonetti che avevamo per strada invece il bambino che si approccia in maniera nuova alla problematica e lo fa anche attraverso le scuole chiaramente ha una sensibilità e una predisposizione diversa rispetto a chi ha vissuto un sistema diverso fino a qualche anno fa ed è a loro che noi destiniamo le principali attenzioni il villaggio verde delle fiabe di qualche sabato fa era destinato a loro ed è stato un punto di partenza di un progetto più vasto è coinciso più o meno con l'inizio dell'anno scolastico volutamente adesso proprio stamattina ho avuto modo di parlare con una delle dirigenti scolastiche e con le altre avevo già affrontato la questione sicuramente partiamo anche con i progetti nelle scuole che vedranno qualche iniziativa conclusiva di questi primi mesi a Natale visto che andiamo verso... questo per quanto riguarda i bambini per quanto riguarda gli adulti invece lì sono sempre queste bandierine che ci ricordano di fare la raccolta differenziata abbiamo uno sul fronte mare, un'altra in piazza ma soltanto queste due oppure ci sono in giro? no, quelle sono delle isole ecologiche mobili stanno funzionando? quelle funzionano certo e la gente va a gettare la carta nel contenitore casa? sì, quello funziona bene anche perché visivamente permette di distinguere nettamente le tipologie di rifiuto devo dare atto ad un finanziamento intercettato dal mio predecessore Michele Palazzo che attraverso l'ex provincia di Bari appunto ha portato a mola questo progetto che ha consentito di acquisire queste nuove isole ecologiche mobili che sono distribuite un po' sul territorio un paio sono anche all'interno delle scuole e questo serve anche per ricordare sempre a tutti di fare differenza io oggi sono andato, è un caso, ma oggi sono andato io a gettare i vari rifiuti lì presso la ditta sulla via di Conversano e voglio dire, dobbiamo ricordare l'orario io sono arrivato alle 13.05 pensavo che fosse orario continuato 5 minuti di tardo 5 minuti di tardo mi hanno fatto entrare quindi li ringrazio però ci sono degli orari ricordiamo questo 10.13.15.18 comunque sono 6 ore quotidiane sono 6 ore dove la gente deve imparare che se ha tanti rifiuti e non può quindi lasciarli per strada oppure non è arrivato il giorno per poterli smaltire può andare sempre alla possibilità però molti dicono ma non abbiamo no, io non dico che non hanno le macchine ma molte volte può mancare la buona volontà di andare abbiamo anche una chicca Mola che è il centro comunale di raccolta che è presente alla zona industriale in realtà proprio stamattina la ditta è incaricata dal lato ci sta facendo degli adeguamenti per cui abbiamo effettuato delle contestazioni nei mesi passati quindi siamo in dirittura d'arrivo per fortuna risolveremo nei prossimi giorni anche queste problematiche che consentiranno di ripartire correttamente con il funzionamento del centro comune di raccolta ripeto è una chicca anche perché all'interno c'è un laboratorio destinato proprio alle scolaresche quindi ci sarà la possibilità anche di permettere le visite a questo impianto appunto per comprendere meglio il funzionamento della raccolta differenziale quindi oltre alla raccolta passiamo invece ad un altro argomento c'è il verde pubblico su questo non ci sono problemi vedo che il verde pubblico il verde pubblico per quanto è possibile abbiamo un affidamento fino alla alla fine dell'anno per fortuna stiamo cercando vuoi parlare di questa iniziativa che è interessante che ognuno può adottare è importante questo grazie per grazie per avermelo ricordato perché effettivamente anche le vostre il vostro mezzo può essere utile per diffondere ulteriormente l'iniziativa l'adozione delle delle aiole consente appunto a privati alle associazioni anche alle chiese alle scuole insomma abbiamo cercato di inserire tutte le tipologie di destinatari proprio per consentire di avere in in adozione quindi di concedere in adozione degli spazi a verde sui quali effettuare delle piccole manutenzioni e in realtà anche delle piantumazioni concretamente chi ha del verde di fronte a casa sua anziché aspettare che sia il comune a interessarsi può dire questo pezzetto curo io a proposito quella multa quella signora che invece si era preso cura del verde lì su fronte a mare è stata un po' una cosa sì in realtà la signora aveva messo le piante quello che poi sarà aveva abbellito aveva abbellito quello che dovrebbe essere questa iniziativa qui l'adozione certo dovrebbe essere questo però chiaramente bisogna regolarizzare prima bisognava regolarizzare però voglio dire ma gliela avete tolta la multa non lo so sinceramente però è una di quelle cose strane voglio dire anziché incentivare va bene comunque questo dovrebbe essere lo spirito anche di questa di questa iniziativa ripeto dal singolo privato come hai detto tu avete messo i manifesti dobbiamo interrompere per 30 secondi avete messo dei manifesti c'è stata già una risposta sì c'è stata già qualche risposta però può continuare il risposto privati e di imprese insomma che avranno la possibilità di fare anche pubblicità di farsi pubblicità ok 30 secondi chi ha detto che la vita è fatta a scale allora non è mai entrato in un ascensore Tortorella esperienza di più di 50 anni nel settore degli ascensori dai un'occhiata alla galleria fotografica sul sito www.ascensoritortorella.it troverai alcuni dei nostri ultimi lavori si affidano a noi enti pubblici e privati fallo anche tu ascensoritortorella 080 527 5485 allora la trasmissione Molesando ovvero parliamo di Mola parlando di Mola con l'assessore Nicky Bufo quindi stavamo parlando di questa bella iniziativa che vogliamo ancora una volta sottolineare ogni cittadino se vuole ha il verde di fronte a casa sua può andare al comune e adottare quel pezzetto che non diventa suo naturalmente nessuno si può appropriare nel regolamento è previsto proprio che l'utilizzo resta pubblico quindi questo sia chiaro neanche per su capione a prescindere dall'appropriarsi per lo su capione che magari ci rivediamo fraventare nell'immediato c'è qualcuno che ritiene di dover adottare magari per allargarsi un po' con qualche tabonino e questo non è assolutamente successo si tratta di rendere invece bella la nostra città questa è una bella iniziativa chiaramente anche di supportare inutile nascondo di supportare l'amministrazione che a volte non ce la fa non ce la fa o ha risorse risicate quindi si chiede l'intervento e il supporto del privato c'è qualche altra cosa che vuoi segnalare sempre in riferimento all'ambiente? in realtà c'è un'idea freschissima che ci è venuta in mente proprio ieri parlandone serenamente in consiglio comunale quindi in anteprima facciamo lo scoop più che scoop è un'idea che mi auguro possa essere promossa e sviluppata così come l'adozione delle aiuole ci sono degli spazi nei pressi del castello quindi sul lungomare dove sono stati tolti degli alberi perché erano completamente secchi potrebbe essere un'iniziativa interessante quella di far adottare appunto questa formella e appunto far piantare magari un nuovo albero in occasione dei nuovi nati del nuovo anno quindi del 2016 ogni bambino un albero ogni bambino magari una famiglia dona un albero alla comunità e quindi c'è una famiglia che è il bambino o una qualsiasi altra famiglia la famiglia che è il bambino la famiglia che è il bambino dona la famiglia che è il bambino con l'albero poi viene intitolato può essere intitolato può essere dando il nome del bambino all'albero quindi questa è un'iniziativa che tu hai intenzione di lanciare sì ma hai intenzione di lanciare qui arriviamo perché abbiamo detto che dura massimo 15 minuti ma nel momento in cui tu continui a fare l'assessore perché da quello stiamo registrando andrà in onda domani stiamo parlando oggi 27 settembre ma ieri in consiglio comunale si è consumato un po' lo strappo da parte di alcuni consiglieri della maggioranza era nell'aria c'è crisi annunciata già da tanto tempo ma sembra che ieri si sia formalizzata che dici ci sono stati alcuni interventi anche di consiglieri della nostra maggioranza che ovviamente vanno tenuti in considerazione e soprattutto bisogna correre ai rimedi mi auguro che si possa formalizzare quanto prima un risanamento una ricucitura dei rapporti è un anno e mezzo però che si va avanti così tu che vieni dalla politica guardi una volta un anno e mezzo che si va avanti così noi ci auguriamo per il bene di Mola però abbiamo aspettato tanto perché all'inizio va bene non si può infierire perché è all'inizio però adesso è passato il problema con il PD vice sindaco poi il tempo di fargli fare la saga del polpo a Pino di Silvio che spero venga e poi al di là ahimè delle battute effettivamente la questione è seria perché chiaramente le problematiche politiche poi automaticamente si riversano sulla vita amministrativa e quindi anche perché penso che tu voglia fare tanto penso che ti sei dato quasi un po' frenati io sento che qualcuno dice no Nichi non lo dico così per Algeria ma sembra che Nichi abbia fatto molto in questo anno altri invece hanno fatto poco hanno fatto poco però uno vorrebbe fare io penso che ogni assessore vorrebbe fare tanto ma se non c'è il sostegno della maggioranza e si parla sempre di crisi non si vive sereni la vita e non si può realizzare anche quello che uno pensa e che vorrebbe fare hai fatto tu la battuta prima se continui ad essere assessore effettivamente se la crisi esplode e sfocia in una chiusura automaticamente tu puoi avere tutti i migliori proposte le migliori idee però puoi essere mosso anche dalla passione che insomma o io può avere un qualunque giovane amministratore però è chiaro che ripeto se non si hanno le spalle forti della propria maggioranza e la serenità della gira quotidiana si è un po' interrotti e sto frenati insomma in questa in altri tempi in altri tempi se siamo agli ultimi tre minuti in altri tempi forse il sindaco si sarebbe già dimesso ma io non lo so purtroppo dipende dipende anche dalle sensibilità personali insomma il sindaco sicuramente starà sondando il terreno starà cercando di capire se è possibile risolvere le problematiche che ormai sono oggettive pubbliche farà delle attente analisi sicuramente anche insieme a noi insomma insieme alla sua squadra la sua giunta tu che se fossi tu il sindaco che cosa faresti non lo so non lo so cioè non è facile voglio dire non è non stiamo facendo battute perché ognuno però io spero che sia il sindaco ma anche gli assessori e i consiglieri ragionino in termini veramente di pensare alla città che cosa è meglio fare quando io qualche settimana fa partendo dalla parola di Dio ho detto preghiamo per il sindaco qualcuno ha voluto fare le battute ma non è così perché bisogna pregare per i governanti pregare il sindaco sul presupposto che ognuno è in buona fede che vuole fare il sindaco è Don Luigi Sturzo quindi voglio dire oggi si è parlato in un incontro ne ha parlato Telenorba di Don Luigi Sturzo cioè voglio dire bisogna non è facile cioè il sindaco in questo momento dovrebbe dire ma che cosa è meglio per il paese che io lascio oppure che continuo in questa situazione non lo so bisogna vivere poi ognuno può pensare ognuno può reagire come però sicuramente su questo conveniamo non è una situazione bella e non si può andare avanti così bisogna decidere speriamo di chiuderla quanto prima l'ultima cosa e chiudiamo che cosa vuoi dire ai nostri diciamo cibernauti non telespettatori ma cibernauti cosa vuoi dire? beh io riprendo dall'inizio riprendo dall'inizio e chiudo con ciò che ho detto all'inizio visti i risultati impegniamo mi sembra mi sembra doveroso intanto ringraziare chi ci ha permesso di ottenere quei risultati quindi il cittadino virtuoso chi crede realmente nella raccolta differenziata rispetta questa prassi quotidianamente e poi mi auguro che a questi cittadini virtuosi se ne aggiungano altri chiaramente perché l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata va a beneficio di tutta la collettività perché insomma come sappiamo bene il piano finanziario della Tari è sviluppato anche e soprattutto sui costi della raccolta differenziata bene grazie e grazie allo sponsor Tortorella Ascensori Tortorella grazie a Niki con cui abbiamo aperto questo ciclo e ci vediamo alla prossima chi ha detto che la vita è fatta a scale allora non è mai entrato in un ascensore Tortorella esperienza di più di 50 anni nel settore degli ascensori dai un'occhiata alla galleria fotografica sul sito www.ascensoritortorella.it troverai alcuni dei nostri ultimi lavori si affidano a noi enti pubblici e privati fallo anche tu Ascensori Tortorella 080 527 5485